Annunciata nel 2019 come la prima serie originale belga di Netflix, la serie Into the Night è disponibile adesso in italiano ed è già nella top 10 dei titoli più popolari in Italia su Netflix. La serie è composta da un cast internazionale, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Russia e Turchia, ed è composta da 6 episodi. Ed è un classico thriller che riesce a mantenere il ritmo nonostante sia ambientato all'interno di un aereo. Anche se potrà sembrare molto semplice, rappresenta un buon intrattenimento per gli amanti del genere. Into the Night è ambientata in un mondo in cui un evento misterioso colpisce la popolazione mondiale. Il sole comincia inspiegabilmente a uccidere tutto ciò che illumina. La serie ruota attorno a un gruppo di fortunati passeggeri e membri dell'equipaggio di un volo notturno partito da Bruxelles e al loro tentativo di volare verso ovest, al sicuro nell'oscurità della notte. La lista degli occupanti del velivolo è multinazionale e multilingue, con persone ricche e povere, giovani e anziane, civili e militari. Questi viaggiatori, apparentemente normali, hanno una sola cosa in comune, il desiderio di sopravvivere al sole e agli altri, usando qualsiasi mezzo necessario. Per quanto riguarda la seconda stagione, nell'ultima puntata della prima serie viene lasciata una porta aperta e sicuramente la continuazione è già stata programmata. Attualmente Netflix ha commissionato soltanto però una stagione di Into the Night, che non è stata presentata tuttavia come miniserie o serie limitata. Questo significa che, qualora il pubblico di abbonati internazionali se ne appassionasse, Into the Night potrebbe avere una seconda stagione e spingersi oltre le vicende raccontate dal romanzo da cui è tratta. Ha esordito venerdì un omaggio sulla piattaforma streaming, Into the Night, thriller fantascientifico in sei episodi, creato e scritto da Jason George, creatore di Narcos e The Protector, sempre per Netflix, e diretto dal duo belga di registi Inti Galfat e Dirk Wary. Attualmente Netflix ha commissionato soltanto una stagione di Into the Night, che non è stata presentata come già detto come miniserie. L'indicatore della popolarità di un titolo originale Netflix è rappresentato dal numero di abbonati che lo ha guardato. Questo tipo di dato è alla base delle decisioni prese dai vertigi dello streamer in merito al proprio catalogo di produzione originale. Quanto più una serie è stata vista, tanto più probabilità avrà di essere riconfermata. Tuttavia, essendo Into the Night la prima e attualmente l'unica serie propria che Netflix ha realizzato per il Belgio, è altamente probabile il rinnovo a conferma dell'interesse ed affermarsi nel territorio con la propria offerta originale. Restiamo in attesa di un annuncio, che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime otto settimane, per saperne il futuro con certezza. Un'eventuale stagione 2 di Into the Night potrebbe continuare ad approfondire i misteri della serie, a partire dal fenomeno solare che arresta la stella di un corpo astrale letale per tutto ciò che si trova sul suo cammino. Da Lost a Manifest ci sono serie televisive che hanno saputo costruire intere mitologie, partendo dalle sventure e ai misteri di un volo di linea apparentemente ordinario. In caso di rinnovo della serie, nel cast di Into the Night 2, ci aspettiamo di ritrovare gli interpreti della prima stagione. Le ripresse di una possibile seconda stagione potrebbero fare conti con la chiusura del set dovuta all'attuale emergenza sanitaria Covid-19. Un'ipotesi realistica collocherebbe l'uscita di Into the Night 2 verso i mesi estivi del 2021, o al più tardi entro la fine dell'anno prossimo. Bisognerà comunque attendere la risposta di Netflix, che dopo aver valutato gli ascolti, che non stanno andando assolutamente male come giudicare dalle classifiche, valuterà se prolungare la serie per una seconda stagione oppure no. Questa nuova produzione Netflix in arrivo direttamente dal Belgio è una vera e propria bomba, dal sapore internazionale. Un cast proveniente da diversi paesi europei ed una trama scorrevole come poche rendono questa inaspettata serie la vera e propria sorpresa del catalogo Netflix di maggio, entrando subito in classifica in Italia e guadagnandosi un settimo posto molto velocemente. Questa serie è una vera e propria bomba, che merita davvero tanto. Questa è una vera e propria bomba, che è una vera e propria bomba, che è una vera e propria bomba.